Allora, mi chiamo Carmela e sono un'OS, operatore sociosanitario. Allora, il nostro lavoro è alquanto complesso, nel senso che si lavora in equip, in stretto ho contatto con tutte le figure professionali presenti nella struttura, dal medico al fisioterapista e con l'infermiere con i quali si va proprio a braccetto. Allora, il nostro lavoro è diretto all'assistenza totale del paziente. Noi assistiamo una persona sotto ogni aspetto, cercando di soddisfare i loro bisogni primari, dal vestirsi, al mangiare, al lavarsi, all'alzarsi, al coricarsi, ogni cosa. Allora, il carrello è il nostro strumento di viaggio giornaliero e abbiamo tutto il materiale per svolgere la nostra attività. Si divide praticamente in due parti, la zona del pulito e la zona dello sporco. Panni, traverse, contropanni, garze, disinfettanti, lenzuola e poi i rifiuti selezionati in base alla raccolta differenziata. Allora, il carrello è il nostro lavoro. Allora, il carrello è il nostro lavoro.